È un augurio venato di preoccupazioni per il futuro quello che il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, rivolge a Cristiani e non a pochi giorni dal Natale. Il prossimo anno, ricorda, ci aspetta un appuntamento elettorale cruciale, quello delle elezioni europee, al quale molti italiani stanno andando incontro con un sentimento di rancore e insoddisfazione. C'è un fallimento di qualcosa che riguarda la classe media, che non si sente più tutelata e rappresentata. Lo dobbiamo dire con una certa convinzione anche gestito male la globalizzazione. Non potremmo fare a meno dell'Europa, ma l'Europa deve cambiare, sostiene il patriarca, perché troppi errori sono stati fatti. La globalizzazione ha portato a situazioni di sofferenza e non ha garantito il benessere promesso, mentre alcuni stati hanno provato a imporre la loro visione, creando la sensazione di non ritrovarsi più in un progetto comune. L'Europa non ha tenuto conto non dei nazionalismi o dei populismi, ma anche delle realtà nazionali che non erano omologabili ad alcuni assi preferenziali, che volevano essere esportati in altre regioni d'Europa, in altri territori d'Europa. Occorre quindi una profonda riflessione su questi temi, conclude Moraglia, che purtroppo non appare semplice in un momento di evidente crisi delle forme politiche tradizionali. Questa crisi dei partiti, che è sotto gli occhi di tutti, perché o esistono movimenti o esistono partiti dilacerati tra di loro, che non si capisce bene dove vogliono andare e cosa vogliono fare, ecco, questo credo che dia una mano forte all'antipolitica.